benvenuti alla lezione di improvvisazione numero 3 e allora continuiamo con questo discorso sugli approcci e espandiamoli un pochettino innanzitutto con l'applicazione sugli accordi di settima e quindi studiamo delle piccole frasi con questi approcci su un accordo di settima e poi cadiamo su una nota anche non dell'accordo quindi potete analizzare poi dalle figure e poi una serie di piccoli di piccoli pattern quelli che vengono chiamati pattern cioè delle piccole frasi strutturate magari proprio sulla base di quest'ordine numerico che ne viene fuori spostandoli da sulle varie posizioni degli accordi quindi sono piccoli pattern che ho proposto ma non sono miei chiaramente sono quelli che insomma alla fine si possono tirare giù da dalla rete oppure da dei famosi manuali usati per l'uso delle improvvisazioni e quindi ho un pochino sintetizzato quello che può essere il criterio poi di questo utilizzo in modo che poi ognuno butta giù tanti di questi piccoli schemi così da da farli un po propri per quello che può essere insomma ormai è stato fatto di tutto è stato analizzato di tutto però insomma alla fine tenere tutte queste piccole cose sotto le dita mi fa improvvisare va bene allora andiamo a vedere questi esempi e allora pagina 81 figura numero 13 vi spiego cosa accade quindi c'è un doppio approccio prima inferiore e poi superiore sull'accordo do settima maggiore che andiamo a sviluppare successivamente e poi con la chiusura su una nota gradevole vicina e quindi la la sesta seconda battuta sull'accordo la minore settima quindi doppio approccio cromatico e inferiore e diatonico superiore poi estensione dell'accordo di settima poi non è opportuno chiudere sul fa perché avrebbe causerebbe una forte dissonanza il mi l'abbiamo già usato e quindi chiudiamo sulla quarta vedete come suona molto bene andiamo adesso sul accordo re minore settima stessa cosa anche in questo caso è molto gradevole chiudere sulla quarta quindi mettete l'accordo re minore settimo e provate questa soluzione infine sul sol settimo è gradevole chiudere con la tredicesima quindi con il mi certo anche con il fan direbbe benissimo che la settima però è stato più gradevole stavolta non suonare la settima anche potrebbe essere l'estensione dell'accordo sol settima ma è molto carino con l'accordo sol settima sinistra chiaramente andare sul sol oppure se preferite potete usare il fa andiamo alla figura 14 e quindi il riferimento stavolta è un rivolto vedete di do settima maggiore e quindi anticipato col doppio approccio che chiude sulla nona quindi la posizione di riferimento adesso che ho usato è questa poi su la minore la posizione è questa quindi del terzo rivolto e quindi doppio approccio sul mi e chiusura sulla nona in questo caso stessa cosa sul re minore settima quindi abbiamo questa posizione anche qua chiusura sulla nona e poi su sol settima che sarebbe questa abbiamo questa soluzione vedete chiusura sulla nona andiamo alla figura 15 invertiamo l'ordine dell'approccio quindi prima quello superiore poi quello inferiore e poi estendiamo sull'accordo di nona quindi primo accordo figura 15 immaginate do nona quindi l'estensione dell'arpeggio è questa con il basso che si può sentire e quindi l'approccio sarà questo estensione e chiusura sulla fondamentale stessa cosa sul la minore nona che sarebbe questa quindi melodicamente approccio superiore inferiore estensione dell'accordo e poi chiusura sulla fondamentale stessa cosa sul re e sul sol vedete come tutto funziona davvero alla grande andiamo alla figura numero 16 vediamo che il doppio approccio poi va a dopo il doppio approccio abbiamo l'esecuzione dell'accordo di do nona do settima maggiore nona come primo rivolto quindi questa è la fondamentale e poi abbiamo il primo rivolto allora adesso abbiamo il doppio approccio prima superiore un po' inferiore poi discesa di questo arpeggio e chiusura sulla nota fondamentale quindi stessa cosa sul la minore quindi partiamo dalla quinta di la minore dal basso verso l'alto si intende e chiaramente adesso la nota di riferimento è il do quindi doppio approccio chiusura sulla fondamentale quindi arpeggio dell'accordo di nona stessa cosa partiamo dalla quinta di re minore e quindi la nota di riferimento è il fa superiore inferiore arpeggio di re minore nona chiusura sulla fondamentale e stessa cosa su sol questa è la posizione di riferimento e quindi e quindi arpeggio di sol nona e allora adesso pagina 82 figura 17 vediamo un po' l'estensione su ogni nota dell'accordo del doppio approccio e quindi immaginiamo alla figura 17 l'accordo che regge questo piccolo schema melodico do settima maggiore o anche do sesta nona se volete in ogni caso quindi l'accordo di riferimento è costituito dalle note do mi sol si e poi se volete anche la nona quindi andando a estendere allora su ognuna di queste note noi facciamo prima l'approccio inferiore cromatico poi diatonico quindi adesso sul mi sul sol sul si e sul re quindi ognuna di queste note dell'accordo ripetiamo do settima maggiore nona applichiamo questo doppio approccio ecco vedete come proprio come esercizio dovete pensarlo come esercizio però da questi piccoli movimenti si prendono spunti quindi potete anche partire da un'altra nota però questo è lo schema per iniziare a prendere confidenza vediamo alla figura 18 il contrario quindi sempre le stesse note però il riferimento è prima superiore e poi inferiore vedete come funziona molto bene allora su ogni accordo di settima voi applicate questo movimento del doppio approccio che vi inizia a preparare per una creazione di piccole cellule melodiche che hanno questo scopo quindi di essere anticipati quindi queste note dell'accordo da questa doppia tensione per poi riposarsi appunto sulla nota dell'accordo sull'ancoraggio allora prendete chiaramente tutti questi spunti come degli esercizi da fare per innanzitutto osservare i tasti e avere sempre dei punti di riferimento sia sull'accordo e poi di conseguenza sui vari approcci sulle note di questo accordo e sulle varie posizioni a seconda della posizione fondamentale o i rivolti di questi accordi così da iniziare ad abituarvi innanzitutto appunto come dicevo col colpo d'occhio ma anche da un punto di vista di sonorità quindi sono comunque degli esercizi che vi aumentano il bagaglio come dicevo prima delle vostre idee musicali anche da un punto di vista proprio di orecchio quindi quella cosa che vi piace di più la fate di più e quella cosa che invece vi piace di meno tendete istintivamente inconsciamente a metterla più da parte però quello che è importante è che la mano sta sempre pronta e sta sempre dentro a soluzioni che comunque non sono cattive qualcuna è migliore qualcuna un po' meno ma alla fine funzionano tutte funzionano tutte e allora su ogni accordo che avete su uno standard qualsiasi fermatevi e applicate queste cose adesso mi faccio lo standard con questa figura numero 17 e vi fate tutti gli accordi dello standard con la figura numero 17 compatibilmente con la lunghezza dell'accordo altrimenti la accorciate oppure magari la accelerate cioè la raddoppiate la fate a semicrome per esempio oppure un altro faccio la figura numero 18 oppure tornate indietro e fate con le altre figure perché proprio come esercizio poi pian piano pian piano vedrete che arriverà la realizzazione musicale e allora si incomincia a avere un bel materiale su cui fare pratica e divertirsi quindi vi auguro buon divertimento buono studio e buona musica alla prossima